Un grande rispetto per un bolognese doc a me di fare l'accordo con Pier Ferdinando Casini, non me ne frega nulla, non mi interessa, non c'è niente contro Casini, è simpatico, ci si sta bene, figuriamoci, ma scusate, ma che senso ha? Direi, beh, abbiamo Casini perché almeno prende il voto dei moderati. No, questa me la spiega. Casini a Bologna? Casini è candidato della coalizione, questa coalizione mette insieme Casini e Bonino. Però si scontra con Errani dall'altra parte. No, scusi, scusi.